buonasera ben trovati in questo lunedì sera buonasera Andrea buonasera a tutti ci sono in piccola parte in piccola parte infatti buonasera al direttore della gazzetta il mezzogiorno per essere qui con noi Mimo Mazza buonasera a tutti commentiamo purtroppo ci siamo svegliati tutti molto presto stamattina 130 arresti tra mafia e politica e anche purtroppo diciamo anche alcuni imprenditori un'operazione grossissima e bassissima che non rimane diciamo solo locale ma ha una risonanza anche diciamo nazionale perché un'operazione del genere non accadeva da tanti anni tu che hai una memoria storica soprattutto che è ricaduta avrà sul nostro territorio tutto ciò ma stiamo studiando con i colleghi le carte poste a supporto di questi arresti per capire bene comprendere il perimetro di questa organizzazione criminale il fatto che sia venuto a bari il procuratore nazionale antiterrorismo e antimafia a illustrare i contenuti dell'operazione insomma dimostra la caratura e l'inchiesta fatta dai magistrati di bari e dalla polizia di stato dobbiamo leggere tutto per capire bene che cosa che cosa è successo e che cosa questa questa operazione punta a far terminare certamente i numeri sono da capogiro i numeri sono assolutamente a capogiro e diciamo poi insomma un'operazione vasta tra bari altamura e anche insomma altre zone limitrofe della nostra provincia noi a questo punto vorrei farti vedere commentare anche con te l'intervista che ha fatto stamattina ai nostri microfoni il senatore filippo melchiorre il primo commento che mi viene in mente e pensare alle parole del sindaco sciente dei caro che una trasmissione televisiva ma anche in consiglia comunale come dire mi ha attribuito il fatto di aver perso quelle primarie del centro destra ecco io sono orgoglioso di averle perse a questo punto e vi dico anche perché ovviamente i fatti diciamo degli arresti mi rattristano appunto di stato umano però politicamente non si può non fare un'analisi un'analisi di primo acchito poi vedremo i dati però se viene arrestata una consigliera comunale che ha aiutato il candidato sindaco di centro destra poi risultato vincente ma non indagato almeno diciamo sicuramente non è indagato se è stata arrestata qualche mese fa un'altra consigliera comune le due consigliere comunali che hanno appoggiato quel candidato sindaco tutte e tre le due arrestate e il candidato sindaco non indagato assolutamente diciamo in alcun modo estraneo alle indagini siano passate tutte e tre da de caro ecco io chiedo a de caro che cosa ritiene sia successo insomma delle parole abbastanza precise anche esplicite cosa è successo secondo te direttore ma io spero che i risultati di questa inchiesta non diventano un oggetto di lotta politica che la politica invece si interroghi tutta insieme senza discussione di sorta sulla scelta della propria classe dirigente adesso bisogna votare per eleggere il consiglio comunale di bari perché bisogna leggere il sindaco ma anche e soprattutto il consiglio comunale quindi nella scelta delle liste spero che siano seguiti dei criteri molto rigorosi di scelta di pedigree di assenza di procedimenti penali e di contiguità con le organizzazioni mafiose da parte di tutti gli schieramenti senza distinzione tra destra e sinistra dopodiché cosa è successo lo diranno lo diranno i processi non è che possiamo chiedere a de caro perché una consigliera comunale eletta con lo schieramento che gli avversava con chi aveva a che fare ovviamente è una domanda che ecco fa finire il tutto in lotta politica io eviterei la lotta politica e andrei ai fatti e i fatti e i giudizi sui eventuali responsabilità li daranno i tribunali non assolutamente non noi assolutamente e neanche la politica invece ieri c'è stata insomma la convention tra diciamo il centro sinistra con emiliano de caro con vito leccese e anche c'era l'avvocato michele la forgia cosa accadrà ora anche nel centro sinistra il centro sinistra deve decidere se presentarsi fare le primarie e quindi far scendere in campo la forgia diciamo proprio oggi dopo quello che è successo insomma dopo quello che è successo la prima cosa è che si reclamava in particolare dalla parte dell'avvocato la forgia un criterio trasparente di svolgimento delle primarie proprio per evitare inquinamenti quello che l'operazione delle forze dell'ordine dimostra che il rischio di inquinamenti esiste certo e trasversare gli schieramenti quindi andrà fatto un regolamento però insomma le primarie si fanno con i gazebo aperti in tutte le parti della città non si può restringere il perimetro altrimenti bisogna fare bisogna scegliere il candidato sindaco all'interno nel chiuso delle segreterie dei partiti che non è il massimo della vita ma secondo te queste primarie si faranno dopo quello che è successo oggi? Secondo me sì non cambia non cambia nulla da questo punto di vista non cambia nulla invece cambiando diciamo argomento purtroppo è stato un weekend di morti tantissimi ragazzi insomma in tutta la Puglia questo ci fa star male perché insomma sono ragazzi giovanissimi e soprattutto ci chiediamo perché tuttora oggi accade questo sulle nostre strade cosa si potrebbe fare per evitarlo? Ma è stato un weekend e è contrassegnato da forte maltempo questo va detto che non è una giustificazione per gli incidenti però è un fatto che il maltempo poi abbia portato anche a essere scenario palcoscenico di questi incidenti mortali che hanno visto protagonisti e vittime dei giovanissimi c'è un problema di prevenzione fondamentale che va fatto e anche di abilità proprio dei più giovani a guidare in condizioni meteorologiche così avverse perché però non te lo insegna nessuno se non l'esperienza se l'esperienza non ce l'hai al primo teletemporale può succedere di tutto non è una giustificazione anzi forse un aggravante però è un tema sicuramente da quello della prevenzione e della formazione dei giovani d'oggi alla guida che è molto importante ci vorrebbe anche un'educazione alla lentezza al non dover correre anche perché se si corre poi magari non si arriva a destinazione Andrea non solo alla lentezza ma anche al non uso dello smartphone che sono due ingredienti pericolosi la velocità lo smartphone è il maltempo è un mix formidabile assolutamente Andrea rimaniamo in tema giovani purtroppo non per una visione molto bella dei fatti andiamo ad avere una panoramica politica e vediamo il prof Vecchioni come ha reagito agli eventi non so se devono vedere ma non sono cose che possono succedere non devono succedere noi non siamo così la prima volta che ho visto anche questo video non ci riuscivo a credere beh insomma questo video è un video molto beh il professor Vecchioni è molto commosso molto commosso Mimmo oggi direttore ti dico Mimmo ma dico direttore questo che è accaduto cosa significa insomma anche per chi lo vede dal di fuori per i giovani con i loro occhi chi lo vede dal di fuori rimane sgomento per questo atto di violenza gratuita nei confronti di giovani che erano avvolto scoperto erano del tutto disarmati ed erano giovani i giovani è così difficile farli scendere in piazza oggi per manifestare per un ideale per la solidarietà, per la politica, per un'idea internazionale, per la pace in questo caso è così difficile coinvolgerli e una volta che si riesce a coinvolgerli non si possono adattare in questa maniera perché è stato un atto repressivo non motivato perché poi rischiavano di andare verso la sinagoga in realtà poi le immagini hanno dimostrato che era così lontana la sinagoga che non era quello l'obiettivo è stato un atto di violenza gratuito che ovviamente non offusca l'immagine delle intere forze dell'ordine alle quali va il nostro ringraziamento per l'opera che fanno ma certo che era un problema per chi materialmente è intervenuto quel giorno in quella maniera a reprimere questa manifestazione che non era stata comunicata ma insomma non è che si agisce in questa maniera verso chi fa una manifestazione non autorizzata sono modi e modi modi e modi anche perché non ragazzi e poi come hai detto tu a volte ho scoperto senza diciamo armi senza niente anche il presidente Mattarella ha preso le distanze da questo evento perché insomma comunque è un evento che ha lasciato sgomenti tutti io a Mattarina faccio un esempio il giorno dopo a Milano c'è stata una manifestazione analoga che nasceva anche per solidarietà a Pisa però abbiamo visto tutti i filmati dei ragazzi completamente col volto coperto che assaltavano il supermercato allora mi chiedo in quel momento invece le forze dell'ordine dove fossero perché passiamo da un eccesso all'altro da una repressione assoluta a un permisismo non li abbiamo fermati per evitare scontri no lì li fermi perché si trovi delle persone adulte perché si vedevano che erano adulte tutti col volto coperto che assaltano il supermercato devi intervenire non c'è nulla che non ti autorizza di intervenire a differenza insomma dell'altro episodio che erano tutti giovani Andrea invitiamo comunque ancora i nostri studenti a riscendere in piazza e a manifestare noi vogliamo sapere i giovani cosa pensano è così difficile sapere cosa pensano i giovani d'oggi una volta che lo esprimono dobbiamo incentivarli a farlo cambierei diciamo anche argomento oggi è l'anniversario della morte dei 95 migranti a Cutro insomma un anno è passato ma tuttora gli sbarchi ci sono non è passato gli sbarchi ci sono non è stata fatta ancora chiarezza su quell'episodio drammatico su quella strage abbiamo visto i parenti arrivare sulle coste calabrese a chiedere giustizia a chiedere ovviamente che l'inchiesta avviata dalla procura di Cotrone giunga a un risultato ma ad annunciare anche un'azione civile nei confronti dello Stato per il risarcimento di un dolore che nessuno potrà mai risarcire ovviamente ricordiamo che c'erano anche tanti bambini c'erano molti bambini abbiamo visto delle tombe addirittura di bambini senza nome con il solo numeretto senza genitori senza nessuno che li reclami una scena veramente straziante ed è un monito per tutti perché i migranti non possono essere lasciati in quelle condizioni assolutamente invece volevo lanciare con te un altro Rvm però prima perché poi sennò cambiamo poco argomento di chiedere al direttore questione anche sicurezza come viene percepita nella nostra regione e non solo in questo momento ma viene percepita i numeri sono positivi la percezione è negativa parliamoci chiaro io l'ho tentato di scriverlo in un editoriale uscito ieri sul mio giornale in cui ho fatto riferimento non a caso questa è la domanda per quello che ho letto ieri ho fatto riferimento per esempio a questa banda di ladri ci giungono segnalazioni in un giorno che in azione nel rione Poggio Franco dove vengono a rubare parti di auto o auto completamente oppure parti di auto è un'azione continua a danni consistenti che in un fatto gli automobilisti che la mattina non possono andare al lavoro perché trovano l'auto senza fanali senza portiere senza ruote al momento è un'azione impunita questa è la sicurezza percepita probabilmente non si tratta del colpo da milioni di euro si tratta di danni di 100-200 euro ma sono danni che arrivano direttamente nelle tasche dei cittadini e da questo punto di vista la richiesta di più forze dell'ordine è una richiesta pressante beh è una richiesta comunque importante che si fa danni ma lo Stato risponde che diciamo non ci sono forze dell'ordine non ci sono diciamo anche nuovi mezzi eccetera eccetera per questo diciamo bisogna accontentarsi e questori devono fare diciamo leva sul personale che hanno questo non è neanche corretto verso di loro no non è corretto verso di loro però c'è stato un periodo in cui ci dicevano che avrebbero fornito un aiuto importante alla videosorveglianza in realtà non è stato così perché poi abbiamo scoperto che tutte le telecamere installate non sono buone per fare l'indagine addirittura hanno una risoluzione non idonea a identificare gli autori di un colpo di una rapina di un omicidio di un furto e questo non va bene perché la videosorveglianza invece potrebbe fornire un aiuto concreto con le nuove tecnologie visto che il fattore umano purtroppo viene che ne è meno beh insomma sì assolutamente Andrea io voglio sempre concludere la nostra rassegna stampa con le pagine più allegre e beh perché oggi di dire la verità è stata una rassegna stampa abbastanza impegnativa molto impegnativa molto molto difficile vediamo questa clip la Gazzetta del Mezzogiorno ha già affrontato questo avvenimento ma vediamolo insieme la Gazzetta del Mezzogiorno è stata una rassegna stampa di una rassegna stampa sono giorni molto importanti di promozione per il nostro territorio c'è una fiera qui a tema in questi giorni a Bari ma questi video sono virali in un battito di ciglia è una Puglia che ci piace sono video straordinari questo era un video registrato sullo frecciagento Lecce Roma che riportava a casa un gruppo di ballerini della notte della Taranta che hanno deciso di suonare nei corridoi del treno ci sono subito tutti che hanno messo mano allo smartphone si sono avventurati in un ballo perché ecco il segreto della Puglia è avere queste tradizioni che non ha nessuno in particolare il segreto della Taranta è di avere questo ritmo che ti trascina subito e che è contagioso perché il morso del ragno è veramente contagioso e questo lo dimostra in maniera evidente perché se guardate le immagini tutti ballavano o comunque partecipavano non c'era nessuno che rimaneva indifferente a questo suono che è magico assolutamente io ringrazio il direttore della Gazzetta Mimmo Mazza per essere stato qui con noi in questa prima parte in questo ogni sera qualche minuto di pubblicità e con chi torniamo? parliamo di sanità mentre ti posso spoilerare già l'ospite della mia terza parte l'attore Francesco Pannofino sarà con noi a Telebari Social Night va benissimo a fra poco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti